Da mesi la Liguria deve fare i conti con un numero crescente di animali selvatici che si allontanano dalle zone boschive e scendono verso valle alla ricerca di cibo, raggiungendo in molti casi i centri abitati, come ad esempio la foce ormai da mesi secca del fiume Bisagno a Genova. Ma questo non accade solo nel capoluogo regionale. Anche il territorio imperiese ha visto infatti un notevole incremento della fauna selvatica, con anomale presenze di lupi e cinghiali, sempre più vicini ai centri abitati e alle aziende agricole del territorio. La situazione che si registra è diventata ormai insostenibile. Questi animali alla ricerca di cibo causano enormi danni ai contadini e allevatori delle aziende di zona, distruggendo intere culture e aggredendo i greggi e gli altri animali da pascolo. Per questo Coldiretti Imperia si rivolge ai sindaci della provincia, per chiedere di condividere e sostenere la sua proposta, al fine di risolvere la situazione. Come Coldiretti crediamo che sia ormai necessario intervenire, smettendo di temporeggiare, afferma Domenico Pautasso, direttore federazione Coldiretti di Imperia. Ed è per questo che abbiamo suggerito al prefetto di Imperia e all'assessore all'agricoltura della regione, di creare un tavolo tecnico-scientifico permanente a livello regionale, per individuare tutti insieme e una soluzione al problema. Secondo Antonio Fasolo, presidente di Coldiretti Imperia, solo con la prevenzione e un piano strategico possiamo mettere in sicurezza i cittadini, gli imprenditori e il territorio. Solo con la prevenzione e un piano strategico possiamo mettere in sicurezza i cittadini, gli imprenditori e il territorio. La salute e rispetto di chi della propria attività ne fa una fonte di reddito.